Ciao ragazzi, oggi video scouting perché andiamo a parlare di Jan Bissek, un giocatore giovane su cui l'Inter sembra voler scommettere perché siamo molto vicini comunque a trattarlo, a portarlo a Milano, poi vedremo, e quindi ecco qui pronto a introdurvelo quindi vi racconterò quali sono i punti di forza, i punti deboli, dove ci sono margini di crescita per questo tipo di giocatore e poi magari se ci scappa anche qualche minuto andiamo a vederci delle azioni tipiche per capire un po' come può esserci utile in campo dove può giocare e se si sposa con la filosofia di gioco e il sistema di gioco dell'Inter voglio ringraziare soprattutto una persona in particolare per questo video perché è colui che me l'ha proposto, anzi me l'ha commissionato essendo lui un mecenate, lo vedete qui sotto, si chiama Andrea Cavo e come sapete c'è la possibilità per i mecenati di chiedermi un video scouting su un giocatore in particolare in orbita Inter magari interessante e via, magari non troppo conosciuto eccomi qui a assolvere il mio compito e a esaudire la richiesta poi voglio anche rassicurarvi su un'altra cosa, io in realtà di mercato parlo in molti mi chiedono attualmente di voci di mercato, di giocatori eccetera oppure anche video economici, sul budget dell'Inter, il bilancio, altre cose, video scouting arrivano tutti questi contenuti quello che posso chiedere, che posso suggerirvi è attivate le notifiche perché di giorno in giorno appena riesco vi parlo di qualsiasi tema d'attualità sull'Inter bene, andiamo al giocatore, ve lo introduco ha 22 anni, è un giocatore destro, anche se l'abbiamo visto, forse qualcuno l'avrà visto giocare più a sinistra però è un giocatore destro di piede, costa 7 milioni ma solo perché c'è una clausola perché secondo me potrebbe valerne di più, ha potenziale perché secondo me ha potenziale per essere un giocatore anche da 35 milioni se ovviamente cresce, migliora e si integra in un campionato comunque più importante come quello nostro eccetera eccetera quindi margini ce li ha, poi bisogna vedere se uno li colma i margini però la potenzialità secondo me ce li ha e poi vedrete le caratteristiche lo seguivo da qualche mese in realtà perché quel tipo di giocatore, chi mi segue da parecchio lo sa che è quel tipo di difensore che a me piace molto non a caso vi ho proposto negli ultimi 3-4 mesi quindi due nomi, chi è attento dovrebbe ricordarseli due nomi, anche tre forse molto simili, anzi delle profili copia di Jan Bissek semplicemente mancini perché stavo ricercando nella mia fase di scouting più un mancino naturale posto di, come vice di bastoni diciamo così no? anche nell'eventualità che magari a Cerbin dovesse essere scattato queste robette qua quindi ero più concentrato su mancini naturali ma è una copia sputata di giocatori che vi ho già menzionato quindi sicuramente capirete che è un giocatore che segue ma soprattutto che mi piace molto allora, voti di forza sono questi sono duelli aerei ovviamente pensate che ha percentuali sopra il 60 65% di duelli aerei vinti ovviamente è aiutato dai 196 centimetri però c'è anche una predisposizione a tempismo a soprattutto coraggio nell'alzarsi andare in elevazione, andare in contrasto anche aereo perché non bastano solo i centimetri serve anche poi il resto e quindi su questo è fortissimo un altro punto forte secondo me sono i contrasti soprattutto i contrasti dove c'è contatto fisico e conta molto la forza del corpo pensate che è un giocatore che sta sui 85-90 kg e soprattutto bello atletico bello veramente che ha molta forza molto esplosivo è molto bravo in marcatura soprattutto quella fisica ha una buona visione di gioco pur essendo un difensore centrale ha una buona visione di gioco tecnica soprattutto anche nel controllo della palla o anche nei tiri da fuori poi vedrete e soprattutto ha delle buone statistiche per quanto riguarda i passaggi la precisione di passaggi quindi questa cosa è ottima capite no? nel contesto inter ci vuole è molto bravo in un'altra cosa a cui sto molto attento lo sapete che è la conduzione della palla per me i centrali soprattutto se sono braccetti devono essere molto bravi a portare la palla devono essere sereni nel portarla perché magari hanno tecnica e possono tenere alta la testa pur portando il pallone perché se lo sanno condurre bene così riescono a vedere il campo e fare la scelta giusta di passaggio o magari a prendere anche semplicemente campo per portare indietro la squadra avversaria così da iniziare la costruzione da più avanti possibile e un'altra cosa che sapete su cui io punto molto a parte le cose che ho già detto è la velocità per i braccetti quante volte ho bocciato qualche giocatore anche molto ben visto tipo Scalvini perché da braccetto da centrale è diverso ma da braccetto c'è questa cosa che io guardo molto la velocità ricerco tantissimi ci sono tantissimi tool professionali purtroppo a pagamento quindi magari sono utilizzabili da quelle persone un po' del settore però ci sono molti tool che indicano questi tipi di dati qua e pensate che è un giocatore che supera abbastanza agilmente i 34 km orari è un'ottima cosa pensate che in media un difficile centrale sui 32 e 2 km orari di differenza non sono pochi e ve lo dico fanno differenza soprattutto se è destro e dovesse giocare a destra contro i vari Leao Kostic Zaccagnic Varaschelia e quant'altro cosa su cui ero molto preoccupato per esempio con Scalvini quindi questo è un altro punto a favore che a me contenta non poco è molto potente fisicamente e ha molta forma anche molta forma atletica è molto bravo a leggere le situazioni in campo quindi a vedere i compagni a capire come muoversi anche con la palla capire quando può spostarsi può prendere il campo può tagliare dentro eccetera e poi è abbastanza determinato a giocatore che ha grinta se devo trovare due o tre punti deboli devo dire che sono molto pochi perché è un giocatore che è completo e sapete io ho un'ammirazione pazzesca per i profili completi non estremi tipo super tecnico ma piccolissimo ma giocatori completi non a caso Savic è un altro che a me piace molto i punti deboli sono molto pochi chiaramente l'esperienza perché ha 22 anni e viene da un campionato comunque non di grido quindi sicuramente può esserci un po' l'esperienza il dover crescere un po' imparare certe situazioni deve stare un po' più attento a certi tagli soprattutto tagli in profondità e passaggi filtranti alle spalle su quello deve stare un po' più attento anche se devo dire che la sua grande velocità a volte gli permette di mi ricordo un po' cansello in questo anche se è un altro ruolo che magari può essere un po' disattento però con la sua grande gamba a volte riesce un po' a metterci una pezza a recuperare in tempo a riprendere quel metro magari che la disattenzione gli ha portato via quindi insomma un po' esperienza concentrazione e poi se devo trovare un dettaglio ma stiamo parlando veramente di dettagli avendo il baricentro molto alto gambe molto lunghe un metro 96 potrebbe magari soffrire qualche giocatore estremamente rapido e un piccolino brevilineo però bisogna dire vi ho anticipato prima che è molto rapido un giocatore nonostante la stazza corre veloce quindi solo se uno è rapidissimo e agilissimo e piccolino magari può metterlo a po' difficoltà perché altrimenti tiene veramente tanto quindi capite giocatore completo con grandi potenzialità andiamo a vederci qualche qualche estratto qualche estratto video qualche contenuto io mi mi sposto se no vi da solo fastidio eccomi qui bene andiamo andiamo a vederci un po' qualche azione ovviamente vedete qui il suo forte colpo di testa assolutamente tiro da fuori anche vi ho detto che ha tecnica un giocatore che comunque riesce qui ovviamente controllo palla e anche tenuta della posizione grazie alla sua fisicità qui il passaggio filtrante quindi è un giocatore che anche qua bellissimo questo ci ricordo se vogliamo bastoni che sa leggere certe situazioni anche in profondità fare dei bei lanci dare dei buoni palloni sulla corsa qui chiaramente ecco qua qui anche un po' di freddezza avete visto e qualità tecnica perché per esempio torno un attimo indietro eccolo qua un po' di rimpalli un po' strani lui comunque ci mette la gamba e poi con la tecnica se la sposta c'è lì molta freddezza qui è un esempio di quello che fatalità vi dicevo anche prima vi ricorderete attenzione la profondità a volte può essere un po' più concentrato però una gamba pazzesca e quindi riesce a volte a metterci una pezza perché rinviene sui giocatori cioè veramente è un giocatore veloce sono pochi quelli che riescono ad andare via veramente di gamba e che lui non può riprendere e questa è una grande cosa perché ti permette di giocare abbastanza aggressivo con una difesa medio alta anche in qualche partita senza avere il patema il terrore di dire oddio se mi scopro fare una ripartenza aiuto con lui hai una mezza possibilità in più di giocare anche su certe situazioni qui ovviamente la stazza fisica che lo aiuta a recuperare palla qui un po' nascosto comunque va via nel senso che come vi ho detto prima è bravo in conduzione quindi si sposta un buon controllo palla si sposta la palla qui addirittura fa l'intervento qua sempre di testa è una mina vagante sia per gli avversari per segnare ma anche è forte ovviamente ha qui colpo di tacco cioè ha personalità è il giocatore diciamo che il campionato italiano bisognerebbe un po' limitare magari certe giocatine perché sono un po' rischiose ma quella è la gioventù se va un po' inquadrato la sua grande tecnica la mettesse al servizio nei momenti giusti senza rischiare troppo è un giocatore veramente completo come avete visto ha freddezza ha personalità ha tecnica esterno interno gioca con tutta la parte del piede del pallone quindi è un giocatore che ha mezzi tecnici per fare cioè ha tutta la base possibile per fare uno step veramente importante di livello per diventare un grande giocatore quello poi dipenderà dal discorso mentale approccio etica del lavoro quanto è serio e quant'altro però le basi ve lo ho già annunciate prima vi state un po' vedendo con qualche spezzone vedete no di cosa stiamo parlando giocatore che ha talento se il talento ce l'ha qui vabbè va a recuperare palla molto bravo a incontrarsi ve l'ho detto anche prima dei buoni score qui un po' cross alla bastoni anche se lo fa col destro sul secondo palo quindi il giocatore che sicuramente qua addirittura va sul fondo col sinistro come difisore centrale anche qua bastoni quindi qua lancio dall'altra parte quindi comunque visione e anche una bella pedata precisa ma anche bella forte qui non gli vai via di velocità perché non gli vai via potenza chili velocità che non superi facilmente quindi con un po' da muro qua anche bella recupero palla poi va a smistarla dall'altra parte come vedete ad aprire magari sul quinto posto ovviamente mura con una scivolata ha delle leve importanti quindi qua dalla difesa pensate anche quante volte bastoni fa questo tipo di giocate qua magari bastoni li fa un po' più eleganti lui li fa un po' più di potenza però è un giocatore che anche dall'inizio dalla propria difesa può partire aprirsi gli spazi fare quel dribbling di velocità e saltare qualche pressione dal basso per poi aprire il campo e freseggiare o costruire sicuramente caratteristiche secondo me perfette per l'Inter voglio dirvi una cosa qui vedete che gioca soprattutto a sinistra per carità lo può fare perché quando un giocatore comunque ha tanti mezzi tecnici fisici quant'altro riesce comunque a giocare anche sulla parte opposta di solito possono avere un po' più problemi nella parte opposta giocatori che magari hanno qualche difetto tipo o sei lento impacciato e quindi magari se uno ti viene addosso non sai saltarlo non sei agile oppure sei mezzi tecnici scadenti e allora magari vai un po' in difficoltà sul piede opposto e via ma nel caso suo che ha grande controllo palla può giocare anche a sinistra certo io lo preferirei comunque pensare a destra francamente perché comunque un giocatore soprattutto gioca in difesa voglio dire in attacco è diverso in attacco è diverso ci sono altre logiche in attacco ma in difesa se giochi sul tuo piede giusto secondo me sei più naturale soprattutto se devi accompagnare l'azione salire sovrapporti poi magari andare al fondo fare dei cross dalla tre quarti eccetera 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 essere sul piede destro per un destro non sarebbe male anzi sarebbe meglio quindi secondo me il suo ruolo naturale nell'inter dovrebbe essere il bracetto destro sinceramente poi che possa giocare anche a sinistra come vice bastone ogni tanto si può anche fare però siccome l'inter ha cerbi e ha bastoni sinceramente io lo vedrei più io proverei integrarlo dovesse venire più a destra non titolare magari da subito è giovane avrà tempo magari dovrà un po' integrarsi per carità però cercherei più di provarlo là con magari a cerbi che in qualche partita può fare può far rifiatare bastoni sulla sinistra avendo anche devrai e poi magari arriverà anche un altro non sapremo però io diciamo che lo preferirei comunque a destra può giocare anche sinistra però lui altri no lui si vediamoci anche qualche altro spunto se magari c'è vedete qua cambio campo vedete che bella pedata che ha a cercare l'esterno posto pensate no c'è anche bastoni dun frisbarella vi ricordate qua anche qua va in profondità magari gli prendono un po' il tempo però avete visto che poi è rinvenuto no qui addirittura punta l'area va dentro cioè capite quando uno ha questi mezzi atletici questa poi attenzione un'altra cosa che mi sono dedicato a dire ha una grandissima resistenza cioè un giocatore che si fa tutta la partita e ha birra cioè veramente ha forma fisica forma atletica è un po' azzardata la cosa però è un po' il layout della difesa cioè non sto dicendo che ecco c'entra niente un altro ruolo però sono quei giocatori che hanno veramente mezzi atletici sono veloci hanno potenza hanno veramente sono dotati perché hanno un fisico veramente che tiene veramente botta che hanno grande capacità di sacrificarsi e di fare corsa e quant'altro e quindi è un giocatore che in questo senso qui insomma è spendibile per tutta la partita e ti dà veramente degli strappi e delle cose importanti anche anche da compagno all'azione o addirittura in questo caso qua in modo offensivo perché poi va addirittura a puntare l'uomo è un giocatore che per essere un difesore sa anche dribblare mi pareva vado a ricordo perché non me lo sono notato purtroppo ma già a me mi sono notato mille cose ma non questa dovrebbe avere una media di un dribbling a partita qualcuno se qualcuno non ha dimistichezza con i numeri e non sa se è tanto o poco è tanto è tanto ok pensate che i valilea o kvaraskelia sono intorno all'1.8 1.6 2 più o meno così no dunfries per dire è a 0.4 cioè capite cosa voglio dire quindi anzi penso che all'inter non ci sia nessuno che dribbla fa un dribbling a partita che fa 1.0 a partita penso che il massimo del giocatore che salta l'uomo nell'inter attualmente lasciando stare Bellanove che hanno giocato pochissimo penso che sia Barella se non erro e dovrebbe essere uno 0 8 se non erro se non erro quindi questo vi fa capire che è un giocatore che se anche parte della difesa questo ha personalità e sa anche venire fuori dalla pressione puntare l'uomo addirittura quando ha fatto un attacco poi attenzione è chiaro che il campionato è di diverso tipo quindi in Italia magari stare un po' più attento magari lo può fare un po' meno però capite che è un giocatore che ha anche mezzi tecnici atletici e di velocità per poter fare anche delle cose che non ti aspetti da un difensore questo era il senso di quello che volevo dirvi vediamoci ultimissime immagini qua ovviamente controllo palla leve e tutto quanto poi fa ripartire l'azione anche qua altro lancio dall'altra parte ad aprire il campo qua va in sovrapposizione è un difensore centrale però poi sale accompagna anche qui forza fisica scalza l'altro e la palla è mia e ci torno su qua si riparte con l'azione capite ecco avete capito un po' penso il giocatore qui dribbling vi ho appena raccontato fatalità e quindi quello che poi avete tra l'altro appena visto anche qui personalità cioè pressato da vari giocatori si fa alla fine fare fallo anche qua insomma va via di forza e appoggia sul portiere anche qua contrasto insomma è un giocatore sicuramente che ha un punto forte nel contrasto e nell'anticipo la copertura deve migliorare qualcosa però avete visto le caratteristiche sono veramente importanti ragazzi spero che vi sia piaciuto spero che Andrea Cavo sia contento di avermi commissionato questo video e di quello che ho portato vi ringrazio per l'attenzione ditemi quello che pensate anche voi ovviamente nei commenti su questo giocatore oppure sul format sul video mi raccomando lasciate like commentate iscrivetevi ma soprattutto attivate le notifiche attivate la campanella per quanto riguarda i video così vi arrivano così vi arrivano sempre non vi perdete i contenuti mi raccomando ragazzi vi saluto forza inter a domani magari domani volevo dirlo prima questo forse domani se ce la faccio faccio un video su economico sul budget dell'inter come funziona il calciomercato se è vero o no che 0 euro tutte queste robette qua e magari diamo qualche spiegazione anche in quel senso lì vedo un po' con i tempi ma dovrei farcela se non è domani sarà dopo domani ciao ragazzi vi saluto a tutti forza inter e a prestissimo grazie per l'attenzione grazie a tutti